Benvenuti a Medicina Top, il nuovo formato dell'agenzia di stampa Italpress condotto da un grande medico, Marco Klinger, professore di chirurgia plastica dell'Università degli Studi di Milano e responsabile dell'unità di chirurgia plastica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. In ogni puntata Marco Klinger intervisterà tre illustri medici e famosi esperti, il top appunto, affronterà tanti temi sempre interessanti chiedendo quello che di solito noi comuni mortali vogliamo sapere, in modo semplice e concreto. Grazie Marco per essere con noi, per aver accettato il nostro invito a condurre una trasmissione dedicata al top della medicina e innanzitutto vi faccio il video di buon lavoro. Grazie direttore, io credo molto in questo format e ti ringrazio sin da adesso per lo spazio che dedichi a me la medicina. L'incontro con i pazienti tutti i giorni mi dimostra che necessità e che desiderio ci sia di avere informazioni chiare e semplici. Io in questo caso mi avvalgo della presenza di esperti celebre e famosi di cui tanti miei amici e il primo argomento che affronteremo in questa occasione è il mal di schiena e a parlarne sarà il mio amico professor Maurizio Fornari, uno dei più celebri ed esperti neurochirurghi italiani. Quindi per cominciare direi via la clip. Sollevare una borsa pesante, raddrizzare il busto, fare una rotazione con la schiena, gesti semplici che possono determinare un dolore acuto e difficoltà a muoversi. Si manifesta così l'ernia del disco provocata dalla rottura dei dischi ammortizzanti che si trovano tra una vertebra e l'altra. In seguito alla rottura il nucleo gelatinoso va nel canale spinale dove la compressione delle strutture nervose determina il dolore. L'ernia si manifesta soprattutto nel tratto basso della colonna, tra le vertebre lombari e colpisce soprattutto gli uomini. Secondo la Società Italiana di Neurochirurgia, ne soffrono da 1 a 3 persone su 100 nel corso della vita. Solo in rari casi l'ernia del disco richiede l'intervento chirurgico, ma non è una buona ragione per non occuparsene, considerando che si può fare moltissimo per prevenirla. Maurizio Fornari è responsabile dell'unità operativa di neurochirurgia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ed è attualmente presidente della Società Italiana di Neurochirurgia, SINC. Dice il suo curriculum che ha fatto oltre 20.000 interventi di chirurgia spinale e chirurgia cerebrale. Ciao Maurizio, benvenuto. Ciao Marco. E grazie per essere con noi oggi. Intanto ringrazio io per questo invito e questa trasmissione che penso avrà molta importanza nel futuro. Sono felice. Innanzitutto Maurizio, come si fa a accorgersi di un'ernia di scale? Purtroppo diciamo che è piuttosto facile perché il sintomo dominante è il dolore. Oltretutto devo dire che per quanto riguarda la colonna spinale, i segnali di allarme che corrispondono a qualche anomalia sono addirittura esagerati rispetto alla gravità del problema. Allora, chiunque ha sperimentato, perché la stima di tre persone su cento che ha avuto un mal di schiena è assolutamente troppo bassa, diciamo che circa il 30% degli esseri umani prima o poi nel corso della vita sperimenta un mal di schiena più o meno importante. Perché uno ha mal di schiena? Uno ha mal di schiena perché scatta un segnale di allarme che è quello legato alla presenza di un legamento che si chiama legamento longitudinale posteriore che ha più fibre dolorifiche della cornea. Ecco, questo ci spiega esattamente cosa succede infatti, no? Questo legamento ha più fibre dolorifiche della cornea, basta che il disco si sposti di un millimetro e a te sembra che ti abbiano segato a metà. Ha dei dolori lancinanti che ti bloccano. Come mai questo sistema di allarme così esagerato? Perché il buon Dio voleva proteggere la possibilità di mantenere la stazione eretta nella maniera più accurata possibile. La stazione eretta rappresenta per l'essere umano il principio di ogni possibilità in primis di vita e in secondo luogo di difendersi dall'ambiente e da tutti i possibili aggressori. Senza la stazione eretta non puoi camminare, non puoi correre, aggiungo un'altra cosa. Senza stare in piedi normalmente non puoi neanche usare gli arti superiori. Quindi alla base del principio in primis deve esistere come essere umano. In secondo luogo di sviluppare anche utensili e quindi tutto quello che ha portato poi alla cultura e alla civiltà umana si basa purtroppo o per fortuna sulle nostre schiena. Ma quando Maurizio hai un paziente che ti dice la cosa classica che ha avuto il colpo della strega vuol dire che è un paziente che necessariamente ha un erneo discale o una cosa del tutto differente, meno influente? Allora, diciamo che esistono solo due possibilità di un dolore acuto nella schiena. Uno è il disco che si è spostato, l'altra possibilità è qualcosa che si è fratturato. Allora, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto nei soggetti giovani, si tratta di dischi che ci sono spostati, stiamo parlando di fenomeni acuti, protrusioni discali, quindi piccoli spostamenti, non necessariamente una vera ernia che poi aggiungerà qualcosa per spiegare, oppure in persone più avanti negli anni purtroppo può trattarsi di una frattura, le fratture non sono solo traumatiche, possono essere anche patologiche, spontanee, esatto. Ma lo stile di vita, secondo te, le regole buone, influiscono in qualche modo nella protezione da un'evoluzione di questo genere o no? Assolutamente sì. Sì, allora, intanto la colonna è una tensostruttura, cioè è come quei burattini che c'erano una volta, con l'elastico, che si schiacciava, saliva, scendeva. È un miracolo per cui tutti questi tiranti tengono uno in piedi, non è autoportante, quindi vuol dire che ci sono dei tiranti che in una maniera armonica, quasi magica, riescono a tenerti dritto contro la forza di gravità. Ma anche il fumo è considerato, Maurizio, un fattore di rischio? Il fumo è un fattore molto negativo, ma più per il metabolismo delle ossa. Per quanto riguarda viceversa la prevenzione dei problemi della colonna, tutto è legato alla manutenzione di questi tiranti. In altri termini fare pochi, ma giusti esercizi che mantengono questa tensostruttura in uno stato di protezione. Però Maurizio, se è un danno o un disco, c'è qualche possibilità di riparazione spontanea? Cioè posso fare da solo, cambiando il mio stile di vita, aiutandomi con la ginnastica? Quando divento un paziente necessariamente chirurgico? So che è una domanda lunga e impegnativa. No, no, è una domanda anche abbastanza facile a corrispondere. In primis, in molti casi, ci pensa madre natura, perché madre natura ti dà il dolore, ti obbliga a stare sdraiato, stare a riposo, il disco anche da solo può tornare al suo posto. Non ce la fa da solo, quindi semplicemente togliendo il carico dalla colonna, ti può aiutare un manipolatore, l'osteopata, sempre nel senso di cercare di riposizionare il disco. Ti possono aiutare i farmaci che allungano il periodo in cui tu puoi sopportare questo processo di auto-reparazione. Alla fine ti possono aiutare anche altre procedure, che non siano necessariamente la procedura chirurgica, tipo le procedure antalgiche, ponture penurali, eccetera, eccetera. Per il solo mal di schiena, difficilissimo che si incrivi poi una diagnosi chirurgica. E qui però si entra un po' di più nello specifico, perché si tratterebbe di capire che esami devi fare, quali sono le cause che possono dare mal di schiena. Diciamo che se uno vuole fare, semplificare le cose, devi sospettare un'ernia del disco o qualcosa di equivalente quando tu hai anche la sciattica. Se ti viene anche male le gambe... Questo è un segnale di allarme. Questo è un segnale di allarme già di una categoria superiore. E tu a un paziente, per esempio, a Maurizio, che è in sovrappeso, suggerisci comunque di cercare di perdere, ma anche se non è facile, tutti quanti lo sappiamo. Allora, su questo non sono così convinto. Penso, no. Allora, intanto... Tutti dicono che perdere peso è utile per tutti, è utile per rivecchiare bene, ma non per questo. I grandi obesi non hanno mal di schiena. Ecco. I grandi obesi non hanno l'ernia... Quindi questa è una cosa che conforta il nostro pubblico a casa. Esatto. I grandi obesi non hanno l'ernia del disco. L'ernia del disco viene se tu hai uno scarso tono muscolare. Ci sono principalmente due esercizi, che lo dovrebbe fare, lo può fare chiunque anche a 90 anni. Uno è la cyclette recline, che tu hai. Sì, che io ho. Esatto, esatto. L'altro è fare un minimo di addominali molto chiusi, tipo crunch. Cioè i muscoli che tirano in avanti la colonna. Capito. Perché la colonna si rompe in genere per un eccesso di carico. Molto interessante. Maurizio, invece, raccontaci quello che fai tutti i giorni. In cosa consiste l'intervento chirurgico di correzione di un'ernia di scala? È proprio detto in modo semplice, semplice, semplice. Allora, premesso che naturalmente ci sono tante altre condizioni che generano mal di schieno, la sciatica o problemi dei nervi, è premesso anche che l'intervento c'è, se c'è un interessamento anche degli arti inferiori delle gambe, sia di tipo doloroso che di tipo deficitario, c'è una mancata funzione motorio-sensitiva, quindi ci vuole una storia molto importante prima, è un mancato risultato da parte delle altre terapie. Di intervento chirurgico. Allora, l'intervento chirurgico è una cosa effettivamente di grande successo, perché è una chirurgia mini-invasiva, si chiama microdiscectomia, è un piccolissimo taglietto, accedi con una piccolissima erosione delle ossa, che quindi alla fine resta tale e quale come erano prima, lì dove c'è l'ernia devi mobilizzare il nervo, togliere l'ernia, nella gran parte dei casi anche, togliere la parte degenerata del disco. Perché è chiaro che se il disco si rompe al punto tale di andare a schiacciare i nervi e dare la sciatica, è perché anche la struttura è molto alterata. Sì, sì, sì. E quindi devi riparare anche... Però l'intervento che è risolutivo, soprattutto poi nelle mani di quelli bravi come te, devo dirti che fa abbastanza impressione, perché i pazienti cambiano radicalmente il tipo di vita, gli sembra di rinascere. Allora, uno che arriva con una motivazione giusta all'intervento è perché non è che sta male, sta malissimo, è invalidato, addirittura non riesce ad andare a lavorare, non riesce a... Quindi il senso di sollievo è una cosa che crea... L'intervento è miracoloso, crea situazioni di entusiasmo, divino maestro... Questo è uno dei motivi per cui tanta gente innamorata di te è in giro. Sì, sicuramente. Certo è che tante volte deludi le persone proprio perché gli dici non ti opere. Esatto. Perché è l'instant satisfaction. Mi interessa un'ultima cosa invece specifica da chiederti perché so che è una delle tue passioni più recenti. Cos'è Maurizio la chirurgia spinale informatizzata di cui sei considerato un leader a livello internazionale? Allora, siamo partiti moltissimi anni fa perché era più di 15 anni fa a utilizzare TAC imaging intraoperatorio accoppiato a un imaging 3D fatto da un computer che poi ti dà degli strumenti informatizzati per cui tu è come se vedessi dentro il corpo umano anche in profondità però non avendo una visione diretta. Di recente si è aggiunta anche la chirurgia robotizzata che è un ulteriore advancement, un avanzamento in questo senso. Adesso la prossima frontiera dovrebbe essere questa roba di cui tutti parlano, un metaverso, cioè la realità aumentata. Bellissimo. Per adesso... avremmo occasione di parlarne tante altre volte. La frontiera sarà questo. Certamente è qualcosa che rende la chirurgia meno invasiva, più sicura. Maurizio, sei stato. Molto bravo, esauriente, simpatico. Ne ringraziarti per la tua partecipazione. Invece passiamo al secondo argomento. Con il professor Piero Montorsi parleremo di cardiologia. Grazie Maurizio. Ti aspettiamo un'altra volta. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro paese e sono responsabili del 44% di tutti i decessi. Tra le malattie cardiovascolari la più grave è la cardiopatia ischemica che si manifesta con un progressivo restringimento delle coronarie non più in grado di portare al cuore sangue e ossigeno. Soprattutto a causa dell'aumento della vita media questa malattia è in crescita in Italia e nel mondo ma si può prevenire con lo stile di vita e cioè con l'alimentazione corretta e l'attività fisica e nei casi più gravi con gli stent, dispositivi che vengono posizionati nelle arterie ostruite per consentire il corretto passaggio del sangue. Si calcola che ogni anno in Italia vengano impiantati 200.000 stent coronarici. A parlare di cardiopatia ischemica abbiamo oggi come ospite e quindi di patologia coronarica e di stent abbiamo oggi come ospite il professor Piero Montorsi che è professor ordinario di cardiologia dell'Università di Milano ed è direttore del Dipartimento di cardiologia interventistica del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Ciao Piero, benvenuto. Grazie per l'invita. Allora Piero, dici cos'è uno stent e in quale situazione si deve usare uno stent? Dunque, lo stent è un tubicino per essere veramente molto semplice è un tubicino di metallo o di lega di metallo che viene inserito in un'arteria quando questa è bloccata dalla patologia coronarica in modo da aprirlo che crea come se fosse una galleria un'impalcatura per mantenere aperto il lume dell'arteria e fare ripassare il sangue in maniera corretta. Voi avete dei numeri molto altri della Fondazione Monzino tant'è vero che in base alla classifica americana Newsweek è considerata un'eccellenza sanitaria mondiale del primo ospedale cardiologico in Italia ma quando impiegate uno stent è necessariamente uno solo per dilatare la coronaria o possono essere impiegati più di uno stent Piero? se ne possono mettere finché se ne vuole quanto è necessario l'importante è che tutto dipende dall'entità della malattia le coronarie principali sono tre e quindi ogni coronaria è lunga circa 15 cm per cui uno ha parecchio spazio dove le arterie si possono ammalare se si ammalano in maniera significativa che vuol dire che il lume dell'arteria si è ridotto in maniera significativa e il sangue passa poco quello è un punto che va curato e dove va messo uno stent per riallargarla perché non esiste medicina che faccia riallargare le arterie ma è un intervento pericoloso Piero questo è considerato una procedura molto pericolosa quasi rutinaria in questo momento perché senti raccontare da tutti ho messo uno stent ho messo due stent ho messo tre stent come se fossero i denti che sostituisci questo è vero non penso sia esattamente così non è così ormai i pazienti quando sanno che il destino è quello di fare una coronografia poi metto in uno stent mi chiedono se possono uscire alla sera perché hanno un impegno da mantenere perché ormai è diventato di come esatto di fatto è un intervento importante che si fa in sala angiografica il paziente è sveglio che si fa solamente un pochino di anestesia locale nel punto dove noi entriamo con il tubicino per poter mandare gli stent fino al cuore c'è qualcuno che racconta che tu fai vedere al monitor le cose che stai facendo in qualche modo che è un altro modo di in qualche modo alleggerire la tensione è vero ci sono alcuni che sono pazienti che sono anche curiosi e quindi cercano di guardare il monitor muovendosi sul lettino e a volte dobbiamo anche riprenderli che non si allarghino troppo perché non riusciamo a fare la nostra sì perché esatto il problema non prende troppa confidenza è comunque una procedura chirurgica è una procedura impagnativa quindi si lavora sul cuore quindi qualsiasi cosa anche se il paziente sta bene all'inizio può di solito va sempre bene ma bisogna stare attenti che mettere il tubicino allargare l'arteria rifinire poi dopo l'allargamento del tubicino sono tutte pratiche che possono svolgersi in 20 minuti se dobbiamo fare solamente un punto può diventare più problemi il cambiamento della qualità di vita dopo una procedura di questo genere è istantaneo o è una cosa progressiva? beh sicuramente il paziente classico che è arrivato dal medico perché ha dolore al petto facendo la corsa fa delle analisi si trova che un'arteria è stenosata in maniera critica fa la coronografia fa l'angioplastica e viene messo lo stent dal giorno dopo la cosa incredibile è che la corsa la fa nuovamente senza avere nessun disturbo questo è che fa la sua differenza che fa una bella differenza e tu hai la possibilità proprio di constatarlo se tu facessi fare a quel paziente lì il test da sforzo classico che proponete prima il test da sforzo dopo c'è un cambiamento assolutamente immediato se la cosa è in questi termini come ho detto singola malattia singola arteria viene risolto il test da sforzo da positivo a indicativo dovrebbe diventare normale ma Piero un'altra cosa c'è una discreta confusione lo dico per i nostri telespettatori per quanto riguarda in questo momento il trattamento di alcune patologie cardiache come quella di cui stiamo parlando in termini medici chirurgici oppure esclusivamente chirurgici ci voglio dire in quali situazioni a un paziente viene indicato Piero l'ipotesi di fare un angioplastico utilizzare degli stent oppure viene avviato a cardiochirurgo per fare per esempio un bypass coronarico cioè è una discriminazione facile o una discriminazione veramente complessa ed è quasi una scelta no la decisione è semplice si basa su la nostra letteratura scientifica che dice un trattamento è meglio dell'altro in questo tipo di paziente e sull'esperienza che ha ovviamente l'operatore ma per decidere se un paziente diventa chirurgico oppure può risolvere con l'angioplastica il proprio problema bisogna intanto vedere il paziente com'è se ha sintomi se non ha sintomi la sua funzione del cuore ha avuto un infarto prima di arrivare da te quindi il cuore è danneggiato questo spinge già potrebbe spingere verso la chirurgia piuttosto che verso l'angioplastica se è diabetico se non è diabetico queste sono le variabili cliniche infatti un'altra volta pensavo da capo alle situazioni di base tipo non so l'obesità il diabete questo quello quello questo sicuramente dopodiché quello che serve è avere dei dati di anatomia delle coronari per decidere allora se sulle tre coronarie come avevo detto prima sono tutte e tre malate magari uno o più di una sono addirittura chiuse allora è più facile che venga mandato verso una risoluzione chirurgica con l'intervento tradizionale ma in tutti gli altri scenari in cui c'è una malattia che si può trattare con il palloncino e con gli stent senza dover fare l'intervento la differenza per spiegare ai nostri telespettatori è quello che in un caso dilati un passaggio che già c'è ed in un altro caso crei una nuova vascolarizzazione portando facendo i vascolarizzazioni esiste Piero la possibilità sfortunata finché vuole che una procedura di angioplastica possa in qualche modo andare avanti andare oltre diventare un intervento cardiochirurgico un bypass coronarico è raro cioè l'indicazione è veramente precisa anche poi nella sua esecuzione certo questo è veramente rarissimo una volta quando abbiamo cominciato un sacco di anni fa c'era lo stand by chirurgico cioè il chirurgo lo aspettava in caso di in caso di questo ormai non è necessario siamo diventati più bravi abbiamo molto più tecnologia conosciamo le arterie come sono e poi bisogna avere un po' di buon senso nel trattamento non bisogna trattare qualsiasi cosa che sia stretta ma quella che tu ritieni sia indispensabile per quel paziente altre ipotesi Piero uno stand dura tutta la vita io ho messo tre stand ipotesi quattro anni fa devo aspettarmi di cambiarli oppure di metterne degli altri di metterne degli altri penso di sì perché penso che la genetica qualcosa voglio dire quindi in qualche modo puoi temere di ma devi sostituire quelli che hai oppure possono anche non funzionare più a un certo punto quelli che vengono messi lo stand dopo piano piano un processo viene indovato dentro la parete lì è è come un diamante è per sempre uno stand un diamante per sempre non lo toglie nessuno però nel tempo si può sporcare nel senso che la placca può riformarsi e a volte riostruire il lume come all'inizio in quel caso il paziente può avere ancora dei disturbi ritorna dal medico e noi con dei palloncini speciali possiamo pulire lo stand ma che però rimane rimane in quel punto lì a proposito del rimanere o non rimanere una cosa interessante è che da ormai da parecchio tempo esistono degli stand che sono riassorbibili cioè hanno un materiale che può passare del tempo quindi non è più necessario la loro presenza loro svolgono il ruolo all'inizio poi in giro di 6-9 mesi si dissolvono questo è grazie alla tecnologia il paziente ha l'arteria dilatata e nulla di metallico dentro però Piero è un paziente a cui tu impianti degli stand è un paziente a cui dici adesso sei a posto sei tranquillo la situazione è migliore però da domani cerca di cambiare regole di vita o lasci lo lasci allo stato brado che prosegue le sue regole di vita magari sballate precedenti la prima cosa importante è far capire al paziente che volente o non volente lui è entrato nella categoria dei pazienti con la cardiopatia ischemica e questo spesso è il primo dramma di accettare questa condizione però deve sapere che quello che è stato fatto è una salvavita in quel momento perché non abbia guai più grossi ma tutto il resto delle coronariche magari sono ancora buone uno se le deve mantenere per cui a parte i farmaci che spesso sono dati insieme tutti i fattori di rischio presenti in maniera più o meno importante devono essere perfetti certo quindi peso giusto alimentazione giusta ultima domanda che ti farei provocatoria Piero anche tu segui queste regole di vita abituato a essere come sei in mezzo a cardiopatici a stetti bisogna praticare razzolare nella stessa maniera però mi viene da dire se uno ha un suo regime giusto di alimentazione e anche di attività fisica deve farla con tranquillità col piacere di farla con motivazione non deve essere uno stress oggi ho saltato perché sono arrivato a tardi allora corro nel parco di notte così recupero no si può fare il giorno dopo e quindi c'è un modo di recupero l'importante è che la testa e la mentalità sia questa che è vincente grazie Piero sei stato simpatico molto esauriente ti ringraziamo e ti aspettiamo presto qui da noi e diamo via la clip invece che riguarda Maurizio Rosmarini Maurizio Rosmarini è un grande esperto ad ontoidata infantile con lui parleremo dei bambini dei denti durante la crescita dopo questa clip la bocca è il fulcro dello sviluppo del viso del bambino per questo è così importante prendersene cura presto anzi prestissimo le raccomandazioni più recenti indicano di portare i bambini dal dentista attorno ai tre anni ma sono ancora pochi i genitori che lo fanno di solito si aspettano i sei anni e soprattutto si portano i bambini dal dentista in seguito alla scoperta di una carie quando il piccolo avverte dolore un confronto precoce con lo specialista è invece importante per approfondire le tecniche di igiene orale e la somministrazione del fuoro allo scopo di prevenire le carie e soprattutto serve per intercettare subito l'eventuale presenza di anomalie problemi di affollamento o difficoltà nella respirazione e nella deglutizione possono infatti compromettere il corretto sviluppo della bocca e di conseguenza quello armonioso del volto è un grande piacere presentare adesso Maurizio Rosmarini che è specialista nella donatoriatria pediatrica è stato per molti anni responsabile del centro per l'età evolutiva presso l'ospedale di Legnano in provincia di Milano ed è coautore del volume 02032 che come si legge nella quarta di copertina ha lo scopo di rafforzare le competenze dei genitori e degli educatori per prevenire difetti di crescita e le malattie della bocca dei bambini degli adolescenti con 0 20 32 denti cosa molto più complicata Maurizio benvenuto ciao ci spieghi perché la bocca è così importante per lo sviluppo del viso del bambino ma la bocca è importantissima perché è l'epicentro attorno al quale tutte le forze muscolari si organizzano per creare una struttura che sia il più possibile armonica cioè la bellezza soggettiva di ognuno è legata quasi esclusivamente all'armonia del viso all'armonia del viso che garantisce il rapporto fra le tre altezze che dividono il viso la superiore la media e l'inferiore collegate tra di loro da un rapporto matematico che è lo stesso che peraltro è stato usato da sempre per costruire le cose che all'occhio umano sembrano più belle in assoluto che vanno dal partenone al pacchetto di sigarette il rapporto di dimensioni che più di tutti dà armonia è soltanto iniziando in modo molto precoce che si riesce a garantire questo sviluppo ma c'è la possibilità Maurizio oltre che di garantire uno sviluppo di questo genere e poi ti dirò la similitudine che mi viene in mente tra poco col setto per noi chirurghi plastici la crescita del setto è quella che determina l'armonia e la simmetria del volto ma quali problemi e quali malattie possono essere evitate con un approccio precoce dei bimbi? ma con un approccio precoce poi io prima ascoltavo il professor Fornari e il professor Montorsi loro si occupano di patologie che nonostante tu possa avere una modalità uno stile di vita corretto possono comunque capitare quindi sono degli eventi imprevedibili l'odontoiatria non è un evento imprevedibile cioè la patologia odontoiatrica è un evento che si riesce a evitare perché attraverso tre tipi di azioni di comportamenti che sono l'igiene orale in primis l'igiene alimentare l'igiene funzionale cioè la respirazione corretta la deglutizione corretta certo tutto si sviluppa in un modo assolutamente regolare e la malattia la si evita per cui è fondamentale quello che sta avvenendo adesso che è sempre di più diffusa questo tipo di approccio che è un approccio che è legato alla prevenzione è legato sostanzialmente alla manutenzione più che alla riparazione ma quindi Maurizio mi viene in mente ma il ciuccio virgolettato è una cosa che va non proprio a favore di quanto tu stai dicendo fino adesso o fa pochi danni come dire no no il ciuccio secondo di quanto tempo lo viene utilizzato però tutti gli oggetti transizionali comunque fanno danno perché interferiscono in questa azione qui di sviluppo regolare ovviamente se tutto avviene secondo un'azione che è un'azione muscolare senza interferenze lo sviluppo è molto più regolare è fluoro Maurizio indicato? il fluoro certo è sempre indicato le linee guida utilizzano adesso consigliano adesso un'applicazione topica cioè il fluoro applicato attraverso i dentifrici che contengono una percentuale di fluoro alto però il fluoro da solo non è che risolve il problema ma se io ho un bimbo Maurizio per esempio che ha l'arcata mi accorgo che all'inizio della sua crescita ha l'arcata mascellare superiore che sporge molto più quella inferiore c'è la possibilità in qualche modo di intervenire per creare uno sviluppo più armonioso? ma ormai sostanzialmente vengono suddivisi in due grandi gruppi trattamenti ortodontici quando vengono intercettati molto precocemente con delle terapie che chiamano rieducazione funzionali che sono degli educatori funzionali sono sostanzialmente dei gommotti che a seconda delle diverse anomalie vengono utilizzati e guidano la crescita in una direzione opposta verso quella in cui stava andando cioè eliminano riducono l'anomalia utilizzano lo sviluppo per correggere l'anomalia certo e li puoi utilizzare fin tanto che la crescita è rapida e i bambini sono piccoli per dare un ordine di grandezza fino alle metà elementari ho capito dopodiché bisogna utilizzare dei sistemi che sono un pochino più stabili più sì soprattutto più presenti non bastano poche ore vanno applicate più tempo rispetto a un tempo le terapie ormai sono tutte molto più confortevoli e sono rappresentate quasi sempre ormai dei trattamenti che vengono fatti con modalità sequenziali preformati preformati trasparenti esatto proprio questo ti volevo chiedere Maurizio che è una cosa che interessa molto a me ma sono sicuro anche i telespettatori a casa si sente molto parlare di queste mascherine trasparenti vedi un sacco di gente che indossa queste mascherine trasparenti per l'allenamento dei denti le consigli sempre in tutti i casi o in qualche caso quando? ma sono state la vera rivoluzione che c'è stata negli ultimi anni allora bisogna suddividere siccome nascono da un algoritmo che nasce dalla ricchezza della raccolta dei dati dall'intelligenza artificiale ci sono alcune società le più qualificate sono un paio di società americane che hanno un margine di errore bassissimo utilizzando quegli elementi di quei prodotti hai sicuramente dei risultati che una volta erano impensabili bello quindi mascherine trasparenti sì quindi sì assolutamente ti ringraziamo Maurizio Osmarini sei stato veramente preciso esauriente grazie ancora a te approfitto per ringraziare te ma anche gli altri due partecipanti Maurizio Fornari e Piero Montorsi con i quali abbiamo parlato di neurochirurgia e cardiologia interventistica e quindi è stato un debutto direi discretamente emozionante per me che non sono avvezza a situazioni di questo genere però mi ha interessato molto e mi è piaciuto e quindi do appuntamento al nostro pubblico dopo averli ringraziati per aver assistito alla prima puntata alla prossima puntata è Medicina Top e quindi un saluto da parte di chi ha partecipato dei nostri esperti e di Marco Klinger ciao a tutti Grazie 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 a tutti